Eccomi cari amici, bentornati, qui è il vostro Walterino di Atypical Movie e vi parlo di un film straordinario, l'opera prima del grande Quentin Tarantino, vi ho parlato l'ultima volta dell'opera ultima, c'era una volta a Hollywood e adesso è il momento di parlarvi di Le Iene, Reservoir Dogs, Cani da Rapina. Il primo film di Quentin è uscito nelle sale nel 1992-93, in Italia mi pare il 93, io poco più che ventenne andai a vederlo attirato dalla locandina, dai colori sghergianti, da questi protagonisti con l'occhiale scuro, lo smoking, la camicia bianca eccetera, fui attirato dalla locandina e con un amico andai a vedere una cena di periferia e mi rimasi veramente molto colpito. All'inizio mi sembrava il classico film un po' schexperiano. Scusami, dammi la mano. Perché non sono morto sul colpo, cazzo? Voglio tornare indietro? Ehi, non dire stronzate, mi hai capito? Quindi la classica pista teatrale incentrata su questa grande performance attoriale del bravissimo Tim Roth che attraverso più flashback dava progressivamente un senso alla storia. E dava anche allo spettatore gli strumenti per piano piano avvicinarsi alla verità di questo thriller movie, di questo caper movie che non è ben facile da definire le iene di Quentin Tarantino perché è un film veramente che mischia più generi ed è, diciamo, per quel periodo per inizio degli anni 90 fu veramente una ventata di grandissima novità in un cinema che probabilmente iniziava ad essere un po' stanco e le iene, poi sicuramente Pulp Fiction più anche altri autori in qualche modo contribuirono a rinnovare un po' quel cinema indipendente perché le iene nasce come cinema indipendente perché è un film rispetto ai colossal di adesso ma anche quelli degli anni 90 che avevano un budget piuttosto limitato. Poi a distanza di anni, ad una seconda e terza visione di Reservoir Dogs, avevo capito che comunque le iene aveva anche a che fare un po' con la tragedia greca e le sue implicazioni. Poi avevo letto anche Get Shorty di Helmut Leonard, un romanzo veramente divertentissimo, mi ero visto poi anche successivamente il film e vedevo come Leonard riusciva a colorare, a dipingere questi malovitosi arrecchiendo i loro personaggi che nella maggior parte dei film, come anche l'ultimo discorsese, veramente hanno poco da dire questi malovitosi, sono così schematici, strutturati in questa dimensione del male con poca cultura. Io credo che quando riguarda il mio dialogo, credo che i tre scrittori che l'affeggivano il più rispetto a un'influenza genuina, probabilmente sarebbero una combinazione di Elmer Leonard, David Mamet e Richard Pryor. Mentre Leonard gioca un po' con queste figure di underdogs, di malavitosi, e ne arricchisce la componente filosofica, il Tarantino sicuramente ha mutuato da Elmer Leonard, tant'è che poi farà Jackie Brown nel 98, ma secondo me già nelle iene del 92 questa componente è presente. Quindi dalla prima visione alla seconda e terza visione c'è stato anche da parte mia una maggiore comprensione di quello che Tarantino voleva raccontare. Ecco, quel gioco di dare un nome ai protagonisti con i colori è veramente divertente. Qualcuno dice che Tarantino l'ha preso da City on Fire di Ringo Lam, qualcun altro no. Questo non importa. Ecco, poi questa capacità di screcciare dal significato di Like a Virgin, il pezzo pop di Madonna, fino al concetto di tipping, cioè il tipping che cos'è? La mancia che viene dato negli Stati Uniti alle cameriere e ai camerieri. E quindi Tarantino e il gruppo di Reservoir Dogs si interrogano quanto sia giusto dare una mancia a chi così faticosamente lavora per rendere piacevole le serate, le giornate degli astanti nei locali, eccetera. C'è anche questo straordinario gioco divertentissimo nei primi 5-6 minuti. Poi subito dopo si entra al centro della scena con la sparatoria. Quindi il film acquisisce subito una certa cupezza, una certa violenza. Quindi Tarantino è molto bravo a screcciare, proprio come un DJ, tra parti diciamo demenziali, comiche, divertenti, ovviamente scritte meravigliosamente da lui, a parti invece più violente, più drammatiche e più pesanti anche per lo spettatore. Quindi siamo di fronte a una grande creatività nel cinema di Quentin che è capace già subito di assemblare differenti generi, differenti tematiche e assemblando tutto questo materiale ne riesce a dare poi un significato differente. Quindi è una godura per lo spettatore veramente trovarsi davanti a questo film che è anti-segnano di Pulp Fiction, ma che già ha quella polpa di finzione, quel gioco di finzione era già assolutamente presente nelle Iene, che è un film secondo me veramente notevole e va visto e rivisto, da più gittate. Ma viriamo di nuovo al concetto di tragedia greca. E se Nietzsche fosse ancora vivo, che cosa direbbe di questa piece, opera prima dell'enfant prodigio Quentin Tarantino? Eh, direbbe sicuramente che siamo di fronte a un film con una grande carica dionisiaca. Quindi un mix veramente tra musica orecchiabile e divertente, Jumon Nero e anche violenza e sadismo. Ma che cosa ci dice il grande filosofo tedesco nella nascita della tragedia, che è l'opera che appunto ha in qualche modo rivoluzionato il mondo della filosofia? Nietzsche quindi si rifà a molti esempi dell'arte greca classica, asserendo che tutte le invenzioni artistiche che nascono da un sano conflitto tra due forze che sono diametralmente opposte. Il Dionisiaco e l'Apollineo. Ecco, l'impulso d'Apollineo era diretto all'addomesticamento delle emozioni, al senso del limite, al trionfo della ragione, all'idea di un uomo civilizzato. E così anche nell'arte. Lo spirito Appollineo in qualche modo guarda a un discorso di forma, di classicismo della forma, di senso del limite e della moderazione, che è tipica un po' della cultura greca. Basti sentire i bellissimi speech di un grande filosofo italiano, Umberto Galimberti, che è un grande amante della filosofia greca. I greci non avevano nessun catalogo per dire come ti dovevi comportare. Per loro c'era una sola categoria, la giusta misura. Non oltrepassare mai la tua misura. I greci non avrebbero mai scolpito, dicevamo, oggi in macchina i bronzi di Riace, che sono fuori misura. Ecco, invece il dio del vino, Dioniso, era esattamente l'opposto. Quindi rappresentava l'impulso verso la trasgressione, la violenza, la follia, il lato selvaggio di ogni individuo, con tutti i suoi innessi e connessi. Quindi una grandissima carica di violenza e sessualità. Quindi dall'incrocio tra queste due componenti, componente appollinea e dionisiaca, si ha un certo equilibrio. E l'arte, secondo appunto il grande filosofo Nietzsche, in qualche modo deve cercare di mediare tra queste due componenti. Ecco, Tarantino in questo caso veramente nelle Iene non vuole assolutamente mediare, se non in alcuni punti. Prendendo ad esempio quella scena fantastica di Tarantino, che è la scena centrale che poi portò Meryl Streep e tanti altri attori, registi, più aderenti all'adressante del politicamente corretto, a criticare la carica violenta di questa scena. In realtà, se non la rivediamo attentamente, vediamo come la scena del taglio dell'orecchio di Michael Madsen verso il poluziotto. È una scena che in realtà ha tutte e due le componenti. Ecco, l'eccesso di violenza di quella scena è sicuramente disturbante. Ma quello che fa veramente riflettere è la contraddizione, il contrapunto artistico e anche musicale, tra appunto questa musica pop divertente, quasi ridicola, un po' demenziale e la violenza della scena stessa. Quindi questo effetto stragnamento veramente ci riporta al grande Duchamp. È come se in questa scena gli occhi ci dicessero non guardare questa scena e le orecchie ci dicessero Ascolta questa musica, continua ad ascoltarla. Ecco, questa è proprio la contraddizione allo spaisamento che ci ha lasciato tutti un po' sbigottiti. Ma perché la rappresentazione artistica della violenza può suscitare in noi un così grande interesse ed ha anche a volte un piacere estatico di liberazione in qualche modo. E non me ne frega un cazzo! Non me ne frega un cazzo! Lui è morto, io no! Lui è un infame e lui dice pietà! Pietà! Fred, pietà! Pum! 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 Ecco, pietà! L'ambientà non c'è! Se c'è il rimpame l'ambientà non c'è! Ecco, questa è verità! Ecco, questo è un estratto del mio primo documentario. E qui l'orrore convive con una musica proprio un po' demenziale, come nel film di Tarantino. Il panchiere regolare e tranquillo qui è delinquente a Milano. E poi anche perché gli artisti amano spesso rappresentare il brutto, lo sgradevole, il grottesco, il mostruoso, quando in realtà ci sarebbe anche bisogno di equilibrio, di bellezza, di trionfo della forma.